Ciao Eccolo qua Ciao Questa è il prepartita Che bello usare E' cazzottissimo di guardare questa macchinetta Questi meccanismi Ora analizzeremo gli stati d'animo del prepartita Rock and roll Qua mischiano sostanze Si, molto bello, si E si sbavusciano i piedi, notare? Non fa niente, non fa niente Questo è lo sguardo di Tails invece No, non caddo foto Ci fai lì Per chi era?